L'alieno è quello che improvvisamente porta qualcosa di nuovo in una società statica, in una società che ha deciso di rimanere statica. Una società astitica, una società in cui non si caglia praticamente, perché tutto deve essere perfetto e quindi nessuno va alla toilette. L'alieno è benvenuto, credo, nella comunicazione. Anzi, forse l'alieno è quello che fa la comunicazione. Voi, non so se conoscete, se non lo conoscete ve lo dico io, una frase di Bertrand Russell, mio grande amico, purtroppo non l'ho mai conosciuto, perciò nonostante ci sono in ottimi rapporti, che dice che esistono le rivoluzioni e sono fatte dalle persone che non si adattano. Grazie a tutti.